Però adesso il corpo libero di Veronica Mandriota Sì, questa ginnasta longilinea con queste proprie linee da ritmica che però poi spinge tantissimo, quindi fantastica Parte a terra molto intensa, coreografica Questi vocalizzi, piccolo remember, non possiamo utilizzare le parole noi nella ginnastica artistica nel gold, nella serie A, nel codice internazionale ovviamente Prima diagonale, tempo triplo avvitamento, fantastica dentro Questa è una diagonale incredibile, mi ricorda Nastia Liukin, bellissimo Uno e mezzo teso uno, C più C zero dieci da buono Anja me cambia ad anello Forse un filino in dubbio, Anja me cambio con mezzo giro A me piace molto la coreografia di Veronica Doppio giro in pugnato e doppio giro in passé Gliela vedo molto ben cucita addosso Doppio carpio, bravissima E va a terminare Mi sa che anche qua siamo Sulla vittoria Del Brixa Io chiedo l'ode alla coreografia, mi è piaciuta molto Io chiedo l'ode alla coreografia, mi è piaciuta molto